E ci sei Mary? Sì, come vuoi? Perché noi siamo a posto. Voi ci siete? Lucia Cone, Cinedonna, Riccione. Stasera introdurrà i doni sul loro di una crisi di nervi. Tu sei una donna sul loro di una crisi di nervi? No, perché? Non capisco perché se mi abbiano abbinato a questo film. Io sono assolutamente serenissima nella mia vita, per cui dico ma come mai? Non capisco, proprio il mio film, ragazzi, stai pensando, chi non è sull'orlo di una crisi di nervi? Il rapporto tra donne e cinema, nel tuo caso, un rapporto felice che funziona in generale, secondo te? Il mio rapporto, sì, felice, nel senso che io fino adesso sto lavorando, anche se mi ci metto in mezzo anch'io, nel senso che comunque non ci sono abbastanza ruoli, secondo me, importanti ancora per le donne, ancora non da protagoniste, nel senso che si è fatto sicuramente un gran passo avanti, ma ancora non c'è questa parità, secondo me ancora non ci sono ruoli adatti o comunque non stereotipati, infatti che è il bello di Almodovar, no? Che fa comunque dove le sue protagoniste sono sempre molto, insomma, sono delle donne, ma non sono delle donne stereotipate, sono sempre anche di una bellezza, non vedere Rossi De Palma o comunque non fuori dal comune, quindi c'è ancora molto da fare, diciamo. Parlando nello specifico dell'Italia o in generale nel mondo del cinema, perché a me vengono in mente attrici come Jodie Foster o Meryl Streep, che invece, insomma, hanno fatto la storia proprio grazie anche all'essere donna, no? Il loro modo di essere donna. Certo, noi parlo dell'Italia, nel senso che tra noi ancora, anche adesso si parla molto per dire di regista donna, produttrice donna, sceneggiatrice donna, quando arriveremo a non specificare che la regista o la sceneggiatrice donna, secondo me sarà già un passo avanti, perché leggevo un po' di tempo fa, ti faccio una citazione di Lina Vermuller, che ha detto questa cosa bellissima, non esiste regista uomo, regista donna, esiste regista bravo e regista non bravo, quindi quando non si farà più differenza tra la... perché già il fatto di sottolineare regista donna a me dà un po' fastidio, nel senso è una regista, non mi devi specificare che è donna, perché già mi dà un po' fastidio, per cui sembra quasi che mi sta dando il contentino, quindi quando si arriverà a un livello paritario di ruoli, insomma adesso siamo credo a un 70-30 come ruoli proprio nel mondo, ma non solo cinematografico, in cui ci sono delle donne molto brave, anche microfoniste, io parlo del mio ambiente, sceneggiatrici, produttrici, quindi sì, parlo dell'Italia. Credi che sia anche per questo che il movimento Me Too in Italia, insomma, sia stato preso in maniera un po' scettica? No, non lo so, quello insomma l'ha relegato a un altro contesto, credo, quindi non lo so perché è stato preso in maniera un po' scettica, rispetto all'Italia, rispetto a... non lo so, adesso ci penso, forse sì, forse non siamo considerati abbastanza, non lo so, però è buono che quel movimento comunque sia venuto fuori per, insomma, per dare voce, insomma, per far venire fuori, insomma, quel problema lì, insomma, affrontarlo, anche se, non so qua, poi come se ne venga fuori, data quello lì che è un po' un gatto che si morde la coda, no? Quindi... Il nuovo film si chiama Se mi vuoi bene, è un film di Fausto Brizzi, con protagonista Claudio Bisio, e ci sono Flavinzina, Sergio Rubini, Memo Rimiggi, ragazzi, Memo Rimiggi, che non sapete che cos'è, è una cosa che io lo amo. No, è tanta roba da... Ragazzi, non abbiamo... è un mito, è un mito, io non proprio lo vorrei a casa, c'è un mito, una roba che gli devi sparare, che sempre che lei che canta e fa e suona, a 80 anni, credo, abbia qualcosa del genere, con un'energia, che a un certo punto dice, Memo, basta, levate questo pianoforte, per cui a cantare, con lui è una cosa meravigliosa, e vabbè, Maria Maria Monti e un sacco di altri attori, che siamo tantissimi, per cui sicuramente me ne scordo qualcuno, e questo, credo, da ottobre al cinema. Cioè, raccontato che la tua comicità è ereditaria, la devi al tuo papà? Sì, sì, sì. Io ho papà, appunto, che è una sorta di Memo Rimiggi, che ha 81 anni, ed è logorroico, lui ho preso anche la logorrea, che non mi sto zitta mai, che mi devi sparare, ed è ancora così, per cui, dei giorni, per cui chi lo conosce lo ama, perché ci parla cinque minuti al bar, diciamo, per cui lo ama tantissimo, perché è sempre proprio il vecchietto divertente, che fa battute, è simpaticissimo, e però è così tutto il giorno, a casa, tutto il giorno che fa battute in continuazione, che a un certo punto dici, papà, basta, ti prego, stai zitto un attimo, fai un gioco, fai un motivo che tu stai zitto, però no, è uno meraviglioso, l'ho preso da lui, sì. Siamo a Riccione, città di vacanze, c'è tempo per le vacanze tra un ciac e l'altro? Sì, assolutamente. Se hai qualche ricordo, anche, o comunque sei frequentato la riviera, io la riviera l'ho frequentata, a parte l'anno scorso sono venuta a prendere il Cineciac d'Oro per metterlo nel freezer, per cui sono stata felice di tornare in questo luogo meraviglioso, ci verrei veramente in vacanza, per cui già mi sono rilassata, c'è questa pace, e poi c'ero venuta, quando ero molto giovane, credo tra i 15 e i 18 anni in vacanza all'Acquafan di Riccione, dove io non ho dormito per tre giorni consecutivi. Ancora? Io potrei morire adesso, cioè proprio devi chiamare l'ambulanza. Noi non abbiamo dormito sul serio con mia sorella e gli altri due amici, sul serio non abbiamo dormito, perché di giorno Acquafan, per cui, e te, e poi te andavi a... Si chiama il dritto, hai fatto il dritto. Si chiama il dritto? Ah, non lo sapevo. È il dritto. Io non so come non sono morta, e poi puoi dire, e non mi sa cambiamo, andiamo in discoteca, eeeh, discoteca, fino alle, non lo so, sei di mattina, poi che mica andremo a dormire, noi abbiamo solo tre giorni, dobbiamo sfruttare, andiamo all'albergo, mettiamoci il costume, poi morti, buttati da qualche parte, però questa roba di seguito per tre giorni. Io se vado a dormire adesso, tipo alle due, cioè il giorno dopo, e mi sveglio, che penso che mi hanno menato, che erano almeno in sette, tipo, cioè una roba... Ti chiedo una cosa in chiusura, faccio anche l'impostata, un saluto per Gioometti Cinema. Perché l'hai detto in maniera così seria? Perché... La devo dire seria? Eh, sì. Ciao Gioometti Cinema. Troppo seria? Meno? Guarda lì e saluta Gioometti Cinema. Ciao Gioometti Cinema. Più allegra? Dice che è Gioometto! Eh? Meglio, meglio, più su, più allegra. Ciao amico Gioometti! Te bello! Meglio, meglio così, che... Tristezza. Un saluto per il Carlino. Il cane? Il Carlino. Io voglio...